Anticipazione una vita domenica 13 settembre 2020. Felipe si preoccupa per Marzia che non sta bene e si trova ospite in soffitta. La chimica tra i due è evidente. Ma chi sceglierà l'avvocato? Enoveva o la sua cameriera Marzia? La Salmeroni intanto dà a Felipe una grossa somma di denaro da investire nell'assicurazione latizona. Ramon annuncia ai vicini di avere già il capitale necessario per un importante investimento. Tutti i signori accettano di cominciare questo nuovo percorso con il Palacios che ottiene anche un anticipo per recuperare la latteria di Lolita. Quest'ultima intanto annuncia a tutti di essere in dolce attesa. Antonito e Sinta sono incuriositi dall'atteggiamento che Emilio ha nei confronti di Ledesma. La giovane indaga senza però ottenere risultati. Ledesma poi scopre che il figlio di Felicia ha una relazione con la Dominguez. Le donne della soffitta riescono a ribaltare il caso della violenza carnale negando la testimonianza di Ursula. Anche Rosina difende il diverto. Alfredo arrabbiato chiede spiegazioni alla disenta e minaccia Marzia. Come mai non sapeva nulla della strategia difensiva di Felipe? Ramon riesce a riacquistare il caseificio. Bryce non può credere a ciò che sta accadendo. Grazie a tutti.